Ciao a tutti e benvenuti nel canale, finalmente ce l'ho fatta, ho trovato il flopper Venganza Non ho ancora trovato purtroppo quello di Mida, ma ho trovato il primo flopper Dove si trova? Ho perlustrato tutta la mappa, vi posso assicurare Non sono riuscito a trovarlo Ad un certo punto mi è venuta l'idea e ho detto ma proviamoci a utilizzare sempre una canna da pesca professionale Quindi la canna da pesca quella blu praticamente per intenderci, questa qua Qui, nella nuova località, qua nel laghetto delle Stark Industries, qui praticamente in questo lago Se voi provate a pescare altrove, non so se avete fortuna, io mi sono girato tutta la mappa E per tutta la mappa dico davvero tutta la mappa senza successo Con questa canna da pesca Mi è venuto il pallino e ho detto ma proviamo alle Stark Industries E devo dire la sincera verità che dopo due tre pesci pescati qui, in questo lago principale Mi è capitato il famoso flopper Quindi il mio consiglio è quello di ovviamente avviare una partita in modalità laboratorio Procurarvi una canna da pesca blu e pescare qua Al laghetto delle Stark Industries Naturalmente io penso che bisogna anche avere un pizzico di fortuna Ma probabilmente qui avete maggiore probabilità di trovarlo Grazie mille